Inter Real Societad 0-0 e Napoli 2-0 Braga I primi due verdetti delle prime due italiane di questa due giorni di Champions League Ne andremo a parlare in questo video Bene tutto, like, commenti, sezione, condivisione e campanellina Cose importantissime, ma come ci mettete poco per farle Quindi fatele, che vi costano poco Con 5 semplici click e 5 semplici cose da fare Rimani di aggiornare sul canale a 360 gradi Quindi che aspettate, fatelo Se volete, ditemi una volta qui sotto i commenti Interessi, tifosi della Real Societad, tifosi del Braga Tifosi del Napoli e non Accettiamo l'opinione di tutti Adesso andiamo a dire un po' alla nostra di questi primi e di secondi tempi di Inter Di Inter Real Societad e Napoli-Braga Partiamo da Inter Real Societad Allora, in Inter Real Societad sia a primo tempo che secondo tempo molto equilibrati Molto equilibrati, entrambe le squadre attaccano Entrambe le squadre comunque fanno vedere che vogliono il primo posto a tutti i costi Ma sprecano tanto, sprecano tanto Infatti sia da una parte che dall'altra ci sono una marea di occasioni sprecate Comunque l'Inter è l'ultimo per far vedere che ci crede ancora di più Metti dentro i top Lautaro, Barella, Bastoni e così via Ma... È sfortunata, è sfortunata perché Lautaro si mangia un gol camonoso al 94esimo Poi, sottolineiamo una cosa comica della gara La simulazione di cubo che è veramente vergognosa Sul rigore praticamente non c'era il 75 se vuole fare simulazione così Però, vabbè Ha fatto di tutto per ottenere il primo posto, dai La Real Società da oggi ha fatto di tutto per ottenere il primo posto e alla fine l'ha ottenuto Comunque, per l'Inter non cambia nulla perché da primo e da seconda è sempre la stessa cosa Prima Real Società da oggi, secondo l'Inter a 12 Terza Benfica a 4, 4 Salisburgo a 4 punti Questa è la situazione finale del gruppo D Poi, passiamo a Napoli Braga Vittoria importantissima Vittoria importantissima che ci colloca verso gli ottavi di Champions League Un ottimo Napoli Primo tempo ha fatto benissimo Secondo tempo di gestione Bravi ragazzi Comunque, come detto Primo tempo Bene, molto bene Create tante occasioni Abbiamo sottomesso il Braga nel primo tempo Ci meritiamo il doppio vantaggio Prima con uno gol di Saci Che sul cross di Polizano se la manda in porta e fa 1-0 E al trentatresimo su assist di Nathan Che veramente oggi da terzino l'ho visto molto molto bene Complimenti a lui Complimenti a Nathan Veramente ha fatto una bella partita da terzino Coronata anche da un assist Però si è neanche meno la gol di sinistro E la manda dentro Secondo tempo di gestione Dove proviamo anche a creare qualcosa Per chiudere la partita definitivamente Per fare il 3-0 Per esempio, che ne so L'occasione di Quaraschelia Dove prende il palo E tante altre cose Secondo tempo di gestione Creiamo qualcosa per chiudere la partita definitivamente Ma alla fine ci qualifichiamo Ci qualifichiamo Vittoria importante Che va a dimostrare gli sforzi Che sta facendo Mazzarri In questi ultimi giorni Nonostante la sconfitta Si è sempre visto una prestazione di squadro Un grande Napoli Oggi se l'è dimostrato Bravi ragazzi Siamo agli ottavi Questa è la classifica Prima Real Si è sempre vittima 18 punti Che fa un play Le vince tutte Secondo Napoli Secondo Napoli A 10 punti Terzo Braga A 4 punti Quarto De Bellino A 2 punti Comunque ragazzi Queste sono le mie considerazioni Sul Napoli 2 a 0 Braga E Inter e la società Da 0 a 0 Se volete Ditemi la vostra Musetto di commenti E noi ci bechiamo Con un prossimo video Ciao ragazzi Due tagli in avanti Occhio che Occhio che per l'Inter Può capitare Un ottavo Non facile Però vediamo Ciao